La task force regionale comunica che nei giorni 12 e 13 settembre sono stati processati 422 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Di questi tre sono i risultati positivi che riguardano una persona residente a Lavello, una persona di nazionalità estera in isolamento in Basilicata e una persona residente a Matera ma in isolamento nel comune di Bernalda. Nel fine settimana sono inoltre guarite tre persone. Con questo aggiornamento sono 83 i lucani attualmente positivi, 78 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. A questi si aggiungono 43 cittadini stranieri risultati positivi che pure si trovano in isolamento in Basilicata. Sono in tutto 381 le persone guarite e 28 quelle decedute per questa grave epidemia. Le persone attualmente ricoverate negli ospedali lucani sono sei. Due si trovano nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Potenza, tre nel reparto di malattie infettive e una nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Matera. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 63.833 tamponi, di cui 63.187 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani, 15 settembre, alle ore 12.